Rocco, il messaggio della tua canzone qual è? Messa come suoneria per forza per svegliarmi perché era molto molto difficile, dati i ritmi, però è un messaggio che parla di sociale, parla alla mia generazione e li invita insomma a svegliarsi, ma non tanto loro, a far risvegliare chi ci governa perché lo Stato non ci sente, specialmente a noi del Sud. In questo festival c'è molto Sud? Assolutamente, è un festival che parla napoletanissimo, e stasera nella serata delle cover, infatti ne avremo la prova, solo cover napoletane, forse è quasi ora di rifare il festival di Napoli. Rocco, hai portato a Sanremo una canzone frisantina? Assolutamente, speriamo di risvegliarli con la mia wake up e speriamo che sia un giorno buono. Napoli ci vuole l'esercito contro la canorra? Io credo che l'esercito ci vorrebbe in Parlamento prima per cacciare tutti quanti fuori. Tutti questi nuovi input, gli omicidi, queste cose di notizia cronaca terribile, tu come le leggi? Come le leggo? Con gli occhi, con tutti quanti, insomma analizzo un po' la situazione dagli occhi di 21 anni. Il mio brano vuole risvegliare un po' la mia generazione e spero che risvegli un po' anche la situazione generale. Credo che il malgoverno è evidente, quindi incrociamo le dita. Si è addormentata la tua generazione? No, si è addormentata chi gestisce la mia generazione. Con i primi guadagni cosa ti sei regalato? Mi sono regalato l'IRPF con i primi guadagni.